Come si tratta di autoproduzione e makers? Il discorso del fare con approcci che vanno da quello più tecnologico ad approcci che sono più di sensibilità progettuale. C'è un fiorire di esperienze che sta davvero esplodendo e questo segnala credo una linea di grande ricerca per il futuro anche per la nostra università. L'idea di investire nei nuovi modelli di produzione industriale, questo sostanzialmente è l'autoproduzione, non il fare a mano o fare da soli o almeno in parte sì ma certamente riguarda nuovi scenari molto più complessi. Quali altre novità stanno emergendo in questo salone? Tantissime, ovviamente è difficile fare una scelta perché indicare i trend è sempre un esercizio molto rischioso. Preferisco dire che ci sono dei luoghi della città che si stanno attivando. Certamente alcuni sono noti già da tempo, esempio Ventura Lambrate che è palestra per la creatività più spinta che viene dall'estero, c'è il discorso delle scuole che si rappresentano lì attraverso progetti e qui abbiamo davvero un grande progetto. Altre zone nuove che non esistevano come zona Sant'Ambrogio che dimostrano ancora se ce ne fosse il bisogno l'estrema vitalità della relazione tra Milano e Design. Abbiamo circa 750 eventi, fuori salone direi che non è più la parola giusta per definirlo, direi super salone. Quindi credo che questo sia anche un saggio di quello che ci aspetterà per Expo dove credo che la coincidenza di due eventi sarà esplosiva. Grazie.